Sì, la proposta della signora sulle convenzioni con le corse notturne non è una novità. Io personalmente l'ho utilizzata ad Hamburgo, in Germania, e penso che sia un ottimo strumento, proprio anche in l'ottica della sicurezza. Quindi sono totalmente d'accordo con la proposta della signora, e in più ci aggiungo che secondo noi almeno appunto nei weekend poi si dovrebbero anche garantire comunque più corse e mezzi pubblici anche appunto nelle fasce serali. È un modo appunto per ragazzi e ragazze di poter uscire in sicurezza la sera, potersi bere anche un bicchiere di vino in più senza mettere a repentaglio la propria salute insomma e la propria vita in molti casi.